Maestro, siamo pronti? Allora, 1963, ancora una volta negli Stati Uniti, Tito Fuente, originario di Porto Rico, scrive Voglio come va? Un pezzo diventato famoso negli anni 70, portato a successo dalla Blues Band di Sant'Ana Siamo già partiti, grande maestro, questa è Voglio come va? Grazie a tutti 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 Grazie a tutti